allora buongiorno oggi pastorizziamo i crauti siamo nella casetta di campagna che hanno fermentato per circa 30 giorni ecco come sfruttiamo questa cucina economica a legno guardate qui c'è l'ecofan che si alimenta solo con il calore della stufa e per questi lavoretti naturalmente usiamo solo legna a gratis bancali rotti anzi ora aggiungiamone un po facciamo qualche pezzo in modo da non far perdere la temperatura e va bene così questi poi quando inizia a bollire 20 minuti e la pastorizzazione è terminata per fare primo naturalmente ho tolto un po di cerchi quindi la fiamma è a contatto diretto con il pentolone ok ok A presto. Mettiamo un altro po' di legno. A presto. A presto.